Più sostegno e meno rischi per le donne partorienti della Sierra Leone. È nato con questo obiettivo il progetto di Africa Amica e degli Occhi della Speranza in collaborazione con Medici Senza Frontiere che vedrà la propria realizzazione il 1 agosto. Si tratta di un progetto che noi abbiamo elaborato sul bando della regione toscana, cooperazione sanitaria internazionale, che ha avuto il riconoscimento, l'apprezzamento e il parziale finanziamento della regione stessa e che riguarda in particolare gli interventi in favore del settore materno-infantile. Prevede in particolare un rapporto di collaborazione con Medici Senza Frontiere che noi consideriamo quindi questo fatto come un traguardo importante perché realizza un momento di rapporto con una delle più prestigiose organizzazioni internazionali. E quindi noi già dal mese di agosto il progetto prenderà l'avvio a validità di un anno ma noi contiamo di gettare le basi per una sostenibilità che sia prolungata nel tempo. In cantiere ci sono anche altri progetti. Il progetto per i non vedenti è ancora in una fase di elaborazione ma è un progetto di grande importanza al quale noi teniamo moltissimo. Lo portiamo avanti insieme con gli occhi della speranza di Castiglion Fiorentino e riguarda soprattutto la possibilità di ridare una capacità di vita normale a tanti giovani, tanti adolescenti che frequentano, che vengono ospitati in questa casa di accoglienza che noi abbiamo fatto qualche anno fa. Il progetto invece che riguarda le infermiere è un progetto di formazione che noi finanziamo per 5.000 euro e che nell'arco di tre anni dovrà garantire la possibilità da parte di giovani di poter acquisire il titolo a livello universitario e questo favorirà enormemente la situazione dal punto di vista sanitario perché queste infermiere verranno in parte impegnate nell'ospedale in parte nelle strutture territoriali.